Musica Quando ero ragazzino io l'idea di fare musicista di jazz in Italia e basta era come, non so, voleva fare i cowboy C'è una forza nel jazz, il fatto che improvvisando il tuo corpo mette un'intensità, una forza che incide Io sono Enrico Rara, questo vuol dire che sono il più grande trombettista del mondo Un giudice incredibile e bellissimo trombettista Il jazz veniva da tutte le parti in quel momento, era un vento che stava arrivando Tutto il secolo ha stato accompagnato dal son di un museo di jazz che ha evoluato Il jazz è come il cinema, è veramente l'art del XX secolo Enrico non è un leader che fa il capo d'orchestra Il segreto sta nella scelta del musicista Mi ha dato un'enorme fiducia in me stesso perché semplicemente mi ha sempre ascoltato e quindi mi stava sempre in risposta In other words, we were having a conversation Enrico è perfetto come partner per chi tende a suonare solo le note necessarie